Tutti sanno qual è la logica politica della lista di Teodoro Scegli Pescara, cioè quella di tutelare persone meno ambienti. Ed ecco perché in ogni competizione elettorale abbiamo sempre un ottimo risultato sia dal punto di vista personale che dal punto di vista della lista civica. Siccome sta per approdare adesso fra qualche giorno il nuovo regolamento Tasi, che potrebbe prevedere un aumento delle tasse per tutti i cittadini di Pescara, noi andremo di nuovo a tutelare quelle persone che hanno difficoltà economiche, anche perché avendo queste difficoltà economiche ovviamente queste persone non potrebbero comunque adempiere al pagamento della Tasi. Per cui se l'amministrazione comunale di cui io faccio parte e sono in maggioranza non dovesse ricevere le nostre idee, io presenterò personalmente centinaia di eventamenti appunto per tutelare le persone bisognose, le persone numerose in famiglia, le persone che hanno handicap in famiglia. E quest'anno ovviamente tuteleremo anche gli artigiani e i piccoli imprenditori, perché se ripresa economica ci deve essere, questa deve essere data una mano anche e soprattutto dal Comune di Pescara. Non si possono mettere tasse agli imprenditori che poi ovviamente hanno una difficoltà dal punto di vista soggettivo e oggettivo, cioè quello di assumere le persone. L'imprenditore può o pagare le tasse o può dare occupazione. Per questo ci vedremo convinti sicuramente affinché l'amministrazione e il governo della città accetti le nostre proposte. Se ciò non dovesse essere, lo faremo in Consiglio Comunale. Tra l'altro qualche giorno fa, assieme all'altro consigliere Pier Nicola Teodoro, avevate presentato una richiesta per quanto riguarda i buoni libro da destinare sempre alle famiglie meno abbienti di Pescara. Non i buoni libro, perché il Comune di Pescara già fornisce gratuitamente i libri alle persone bisognose, ma ripristinare le borse di studio, che vengono chiamate borse di studio in maniera anche, come dire, un po' diversa rispetto a qual è la loro finalità, cioè quella di dare un aiuto e una mano alle famiglie bisognose per l'acquisto di quaderni, astucci e quant'altro, perché è vero sì che il Comune passa libri, ma noi personalmente, che io ricevo ovviamente come sanno tutti i cittadini di Pescara, centinaia di persone bisognose, già ricevo preoccupazioni e lamentelle di quelle famiglie che sono disoccupate e che non possono permettersi neanche di comprare dei quaderni o degli astucci ai propri figli per fargli andare a scuola.